Grazie. Ho il piacere di presentare il padre Umberto Miguel Lianes, ben conosciuto da molti di noi, Gesuita, professore di morale fondamentale nella nostra facoltà di teologia e attuale direttore del Dipartamento di Teologia Morale. Il padre Miguel Lianes, nato a Mendoza, Argentina, prima del suo soggiorno a Roma, è stato professore sempre nell'area di teologia morale nella Università del Salvador a Buenos Aires. Quando il padre Lianes studiava teologia, proprio lì, quasi alla fine del mondo, il rettore era il padre Jorge Mario Bergoglio. Il tema della conferenza è l'esordazione apostolica Evangelii Gaudium, come sapete. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Parlerò in italiano, o itagnolo, come venga fuori. Cercherò di fare una presentazione del documento. Chi mi ha già sentito, abbiamo fatto il 14 gennaio qui in questa sala, una presentazione con altri sette professori di questa esordazione apostolica. Quindi chiedo scusa, non è che ripeterò tutto ciò che ho detto, però qualcosa per forza dovrei ripetere, visto che il documento è lo stesso. Bene, per me devo dire che quando ho letto per prima volta Evangelii Gaudium mi era così familiare. Dico, beh, questo sembra che l'ho già letto. Beh, erano tante cose che il padre Bergoglio ci aveva già parlato anni fa. Però, bene, oltre a questa familiarità che trovo a livello personale, considero sia un documento originale e cercherò di spiegare questa sua originalità. Lo scopo del documento è invitare a una nuova tappa evangelizzatrice, come tutti sappiamo, e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Quindi vuol dire che ci troviamo davanti a un documento programmatico dove c'è un invito chiaro a una nuova tappa di evangelizzazione. L'introduzione presenta i temi principali. La gioia dell'evangelizzazione, citando in primo luogo l'esortazione apostolica Gaudet in Domino, di Paolo VI, e dopo l'Evangelii Gaudium e Nunziandi, anche dello stesso Papa. Ed entrambe erano molto stimate da padre Bergoglio quando era provinciale prima e dopo il rettore del Collegio Massimo di San Miguel, come ha detto padre Javier, dove io sono stato studente al suo tempo. Ma non si tratta di una mera ripetizione di temi ormai trattati per ricordarli, ma io crederei che una reinterpretazione e un approfondimento per andare avanti, per progredire nell'autocomprensione della Chiesa, come una Chiesa la cui identità è appunto l'evangelizzazione. Sembra una cosa ovvia, però talvolta Papa Francesco le cose ovvie li rende originali a questa capacità. Infatti, se la Chiesa non evangelizza, non è più Chiesa. E se un cristiano non evangelizza, non è più cristiano. Quindi c'è un invito a una nuova tappa dell'evangelizzazione, dice Evangelii Gaudium al numero 287. Allora, in che senso inizia una nuova tappa di evangelizzazione? Occorre ricordare che il documento è allo stesso tempo un frutto del Magistero latinoamericano, che come ieri si è ricordato, in sei conferenze generali dalla sua creazione nel 1955, ha stesso cinque documenti, tra i quali soprattutto Puebla e Aparecida sono alla base della proposta di Papa Francesco. Questo Magistero aveva presso come metodo il vedere, giudicare, agire, a contatto con delle comunità, le quali venivano consultate prima del raduno dei Vescovi. In questo modo i Vescovi partivano da un documento di lavoro che raccoglieva ciò che si rifletteva all'interno del popolo cristiano a diversi livelli, comunità, parrocchie, istituzioni educative e accademiche, conferenze episcopali. Il nostro documento, appunto, è il documento finale di un sinodo di Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Appunto, i latinoamericani non dimentichiamo le parole di Giovanni Paolo II a Puebla quando chiese una evangelizzazione nuova nelle sue forme, nei suoi metodi, nel suo ardore. Sembra, secondo almeno il professor Rogali, che il Papa si era ispirato in Latinoamerica in questa idea della nuova evangelizzazione che prima aveva formulato quando era in Polonia. Apparecida come conclusione della conferenza dei Vescovi dell'America Latina e dei Caraibi, chiama, come si è detto, a una missione continentale e sappiamo che il Cardinale Bergoglio era il preside del comitato di redazione del documento e coloro che lo abbiamo conosciuto dal rettore delle facoltà di filosofia e teologia abbiamo visto fondare una parrocchia dal rettore, cosa che raramente fa un rettore, dove ci spingeva ad uscire, ad andare alle case, ai più poveri e a evangelizzare. Perciò dico che mi riecheggia a livello personale tante cose. Per me rileggere e meditare questo documento è anche un grande profitto spirituale. Infatti questo documento attira perché secondo me trabocca esperienza pastorale, ma anche esperienza di Dio, esperienza di essere chiesa. E uno stile di documento mi sembra diverso. Esperienza sua personale in quanto pastore, ma non solo perché chi ha la propria esperienza non si accontenta con essa e ha la ricerca delle esperienze degli altri. Quindi il documento anche raccoglie l'esperienza di tanti con cui il padre Bergoglio, il cardenale e l'arcivescovo ha lavorato, si è trovato, ha riflettuto, come anche ha spiegato il professore Galli ad Aparecida. E perciò lo fa in uno stile profettico. Al numero 218 dice è necessaria una voce profettica perché soltanto una voce profettica può evangelizzare. E quindi questo documento è evangelizzazione in atto. È un testo che interpella alla Chiesa ad oggi e riprendendo le sue parole rivolte ai religiosi è un testo che vuole risvegliare il mondo, ma non soltanto il mondo anche la Chiesa stessa. Un testo che non ha delle ricette, anche se insegna ai preti come preparare l'omelia e tanti altri consigli molto particolari. Lui diceva che appunto uno si deve occupare non soltanto delle cose grandi ma anche delle piccole. Quindi lui pensa alla grande evangelizzazione anche nei piccoli dettagli. E soprattutto è un documento che fa pensare. Secondo me questo è un grande valore. Come ho detto prima, siamo 20 professori qui alla Gregoriana che stiamo preparando un testo con delle chiavi di lettura. La mia sorpresa è che io prima ho cominciato a chiedere ad alcuni di scrivere qualche chiave di lettura e poi mi sono trovato che altri venivano ad offrirsi. Perché? Perché veramente ce ne sono tanti temi, ma temi collegati, temi articolati che si possono percepire come disparati. Invece no, hanno una interna unità, una coerenza perché parla appunto dell'evangelizzazione. Quando un evangelizza ne ha tanti aspetti su cui parlare o su cui trattare. E qui mi sembra anche che un documento di maturità della Chiesa dopo tanti anni di dibattiti interni, per esempio se l'evangelizzazione deve essere liberare il povero allora ci mettiamo a lavorare con i poveri e ci dimentichiamo del Vangelo, oppure se torniamo a delle pratiche pie e ci dimentichiamo dell'aspetto sociale. Per dire come una caricatura due atteggiamenti che sono stati molto presenti e hanno divisi la Chiesa negli anni precedenti. Quindi è un documento di maturità, maturità della Chiesa direi. È un testo che interroga al cuore della Chiesa e chiama a intraprendere la sua missione essenziale. Allora, il testo si chiama Evangelii Gaudium, si tratta della gioia di sperimentare l'amore di Dio per ognuno di noi, il suo perdono e la sua tenerezza. Quindi è raccogliere il succo del Vangelo e riproporlo. Una gioia che trova le sue radici nella predicazione profettica dell'Antico Testamento, soprattutto nei testi messianici dove si annuncia un nuovo futuro. E nel Nuovo Testamento, particolarmente nella figura di Maria, come figura del povero. Quindi, per esempio, si fa riferimento al Magnificat, dove si annuncia il compimento delle promesse. E nella Chiesa nascente, pure nell'ultima cena e nell'esperienza della risurrezione, è l'atteggiamento con cui viene descritto l'Evangelizzatore. Infatti, la figura del risorto è già presente dall'inizio dell'esortazione, per esempio il numero 2. Anche se ci sono tante difficoltà nella vita, il Papa accenna alla gioia dei poveri. Chi ha esperienza di andare, insomma, nelle borgate, con la gente più semplice, anche se loro hanno tanti problemi, però hanno una gioia interna che è frutto dello Spirito di Dio che è presente in loro e presente nella loro esperienza di fede condivisa. Quindi è questa la gioia di cui parla il documento. La gioia del cuore credente, generoso e semplice, dice il Papa, che attinge alla fonte dell'amore, sempre più grande di Dio, che si è manifestato in Gesù Cristo, al numero 7. E la gioia propria del cristiano. Già Paolo VI indicava nell'Evangelii Gaudium che quegli evangelizzatori tristi non servono a niente, quindi si richiama non soltanto quel testo ma anche a un atteggiamento che veramente attiri, come si è detto questa mattina, che entusiasmi. Allora il documento si struttura in cinque capitoli. Il primo parla della trasformazione della Chiesa. È una parola molto forte. Papa Francesco esprime il suo desiderio di riforma della Chiesa. Evidentemente una riforma che è iniziata al Concilio Vaticano II e fa una chiamata alla conversione nella quale si include perché certamente senza conversione è impossibile una riforma. Non si tratta di ridurre i dicasteri romani, non si tratta di una riforma, di una struttura un po' arretrata forse, ma si tratta anzitutto della conversione. Dei cuori convertiti e veramente credenti, gioiosi, allora si può aspettare una vera riforma della Chiesa. Perciò il testo incomincia con uno stile profettico, ma una profezia particolare perché in genere il profeta non si include, almeno i profeti della Sacra Scrittura nell'Antico Testamento non si includono nella necessità di conversione. Loro, dopo aver avuto una esperienza forte di Dio, richiamano al popolo alla conversione. Invece qui troviamo che Papa Francesco si include e parla della conversione del papato. E lui, forse facendosi ecco della congregazione generale da Gesuita, no? Il 32esimo quando parlava che un Gesuita è un peccatore, quello lo ripete tante volte. Però peccatore vuol dire tante cose. Vuol dire uno che ha esperimentato la misericordia di Dio. E questa è la cosa più importante. Non tanto se uno ha fatto quello o quell'altro, ma più importante che il peccato nella teologia cristiana è la misericordia e il perdono. È la grazia che vince i nostri mali, i nostri peccati e perciò ci rende uomini e donne di speranza. Perciò al numero 49 fa questa chiamata, usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. È una chiamata, ripeto, che per me personalmente l'ho già sentita tante volte. E quindi andiamo al capitolo secondo, rivolge lo sguardo al mondo. Prima possiamo dire che incomincia dal soggetto, dal soggetto chiesa, dal soggetto anche personale, per poi subito andare al mondo. E lo fa nello stesso modo del Concilio, riprendendo le parole di Papa Giovanni, contro i profetti di Sventura, al numero 84. Un'altra paragone con Papa Giovanni. Quindi non vuole sentire, non vuole, non è d'accordo con questo atteggiamento di lamentelle di questo mondo, di questa società, di quasi, insomma, che alla fine non servono a niente. E con intelligenza evidenzia gli ostacoli di un autentico sviluppo umano che deve essere integrale, secondo l'idea di Paolo VI nella Populorum Progressio. E se nel mondo non tutto va bene, siccome la Chiesa fa parte di questa situazione di peccato, perciò occorre fare un discernimento non soltanto delle ingiustizie del mondo, ma invita a tutta la comunità, a tutte le comunità, come aveva fatto già Paolo VI nell'ottogesima adveniens, a fare un discernimento delle tentazioni a cui il popolo di Dio è sottomesso, sia i fedeli che i pastori. Quindi è un documento di discernimento pastorale in atto. Un discernimento riguardo alle interiorità, e questo è molto ignaziano, alle emozioni dello spirito nel cuore di ognuno, ma anche un discernimento all'interno della Chiesa, quelle sono le manifestazioni religiose che non vanno bene, che non sono autentiche, e soprattutto il riferimento alla mondanità spirituale, e un discernimento sul mondo, sulle strutture che sono di peccato, sulle ideologie che le giustificano. Il terzo capitolo investe il tema del documento, che è l'evangelizzazione in rapporto alla Chiesa, e tutto il popolo che evangelizza, come si è già detto, spiegando la Chiesa dal punto di vista dell'evangelizzazione, intanto è la sua identità, la quale riveste ogni livello e istituzione, dalla dimensione personale alle istituzioni più grandi, evidenziando il bisogno di farsi carico dell'evangelizzazione da parte di tutti e di tutte le istituzioni. Il quarto è una risposta alla diagnosi di una società dove il comunitario è in crisi, questo anche riprendendo Aparecida stessa, per far vedere quanto sia fondamentale la dimensione sociale nell'evangelizzazione, è un punto fermo che non si discute più, la quale viene collocata all'interno di un'etica relazionale, in un dinamismo che va dal riconoscimento dell'altro in quanto persona, all'inclusione dei più deboli nel contesto del bene comune e del dialogo per costruire la pace, sia all'interno della società e delle società che della Chiesa stessa. Il quinto si incoronna con l'emergere di una spiritualità che ha guidato lo svolgimento del pensiero di Papa Francesco nello scorrere dei diversi temi del documento. Appunto, non si tratta di una giunta decorativa, ma di una spiritualità incarnata che anima l'impegno del cristiano per la trasformazione del mondo in un mondo più umano perché, appunto, è Dio a regnare. Ci troviamo per prima volta davanti a un documento pontificio di stile latinoamericano. Questo fa sì che qui in Europa tante volte non venga subito capito. Secondo il metodo delle conferenze che ho già spiegato di latinoamerica, secondo la prospettiva e le sue problematiche e i suoi accenti. Ci troviamo anche per prima volta davanti a un magistero interamente postconciliare. Quindi questo è il primo Papa, dopo il concilio Vaticano II, che non è stato presente al concilio e forse per questo non discute più sul concilio. Il concilio viene applicato e basta. Perciò si è fatto. Bene, però non sembrava qualche anno fa così. Quindi lo stile è pretamente conciliare. Come ho appena detto, i temi del concilio vengono ripresi e interpretati in forma latinoamericana. L'altra cosa interessante è che un'esortazione apostolica, come ha detto il professor Galdi, indetta dopo il sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Ma, come mi ha fatto notare un professore di questa università, non si legge nell'intitolazione la dicitura post-sinodale, come è stata l'Evangelio rinunziante di Paolo VI. Questa esortazione apostolica viene pubblicata dopo la prima enciclica di Papa Francesco, anche se, come lui stesso avverte, è stata scritta maggiormente da Papa Benedetto, anche se non è la prima volta che la stesura di un'enciclica viene assegnata ad un altro. Soltanto che in questo caso il Papa rende pubblico l'autore principale dell'enciclica che lui fa sua. Non voglio entrare qui nella differenza evidente di stile tra la sua prima enciclica e la sua prima esortazione apostolica, ma la cosa che sorprende è che questa esortazione apostolica non soltanto non viene chiamata post-sinodale, ma invece è chiaramente fattura sua e addirittura si tratta di un documento programmatico del suo pontificato. E questo proprio rende atipico questo documento. Non è un'enciclica, ma è programmatico. Bergoglio è così. E vuol dire che lo stile scelto dal pontefice non coincide con la sua intenzione di fare un documento programmatico del pontificato. Magari un altro Papa avrebbe fatto un'enciclica, chi lo sa. Ed è qui che risiede l'importanza dell'esortazione apostolica, nel suo carattere di programma per la Chiesa durante il suo pontificato almeno. Lascio la questione di quale tipo di magistero si tratta ai professori di teologia adormatica o fondamentale, che non so se potranno risolvere questa cosa, ma è chiara la sua intenzionalità che questo è il suo documento principale del suo pontificato finora. Allora, cosa si può aspettare di questo documento? Anzitutto un nuovo stile comunicativo, e qui vediamo che è Papa Francesco, quindi che non lo ha scritto un altro, come lo sentiamo parlare alle omelie di Santa Marta, che poi vengono ripetute dalla radio e commentate sull'autobus. Uno stile diretto, non formalistico, semplice, ma non superficiale, piuttosto organico, anche se i temi siano così disparati, come ho detto, c'è una coerenza interna attorno agli assi principali che cercherò di esporre. Nella sua propria originalità è uno stile conciliare nel senso di ciò che il concilio si prefisse, più vicino a Lars Laudandi, che ha lo stile giudiziario legalistico condannatorio del preconcilio, come dice Omali. Il documento presenta la bellezza di evangelizzare, di essere popolo in missione. Dopo una prima lettura bisogna domandarsi quali siano i nodi fondamentali su cui punta questo messaggio. La problematica fondamentale, e abbiamo saputo che lui quando ha parlato nelle congregazioni o nel conclave, è una Chiesa autorreferenziale, che guarda se stessa con una sorta di narcisismo teologico, che la allontana dal mondo e che pretende di tenere Gesù Cristo per sé, senza farlo uscire fuori a Gesù Cristo stesso, cioè una Chiesa che non evangelizza più e che svolge una vita mondana per sé. Una diagnosi molto concreta e molto dura. Questa idea viene sviluppata nel capitolo secondo, al punto secondo. Quali sono le manifestazioni di questa Chiesa mondana, mondanità spirituale? L'individualismo, la crisi di identità e il calo del fervore, al numero 78. Un complesso di identità che ci porta a voler essere come gli altri, quindi una perdita di identità, 79. Il relativismo pratico che ci porta ad agire come se gli altri, soprattutto i poveri, non esistessero, non c'entrano nei nostri piani, nelle nostre scelte. L'acidia egoista che ci porta a fuggire da qualsiasi impegno, il prestare maggiore attenzione all'organizzazione che alle persone, una Chiesa che è diventata burocratica, il prestare maggiore, scusate, la tristezza dolciastra e il pessimismo sterile, 83-84. Gli atteggiamenti difensivi di chi rinuncia al realismo della dimensione sociale del Vangelo, 88. Le scuse che si pongono bene per non impegnarsi veramente con i poveri. Per rifugiarsi in una spiritualità intimista e narcisistica, numero 262. Trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale, numero 89. E infine la mondanità spirituale, che in un certo modo riassume tutte le altre. Qual è la prospettiva fondamentale? La riforma della Chiesa si fa attraverso l'uscita di sé, e questo mediante l'uscita di ognuno dal proprio egoismo, ed è la medicina a questa Chiesa malata. Ma per uscire bisogna ascoltare la chiamata dello Spirito. Cioè, senza vita spirituale non c'è evangelizzazione, la quale viene collocata in un contesto missionario che vuole trasformare la Chiesa in una Chiesa in uscita. Perciò il tema dello Spirito Santo è molto presente nell'Evangelizzazione in una serie di testi. Al numero 51, per esempio, dice che evangelizzare implica riconoscere e interpretare le emozioni dello Spirito buono e dello Spirito cattivo, indicando le vie di un discernimento secondo Sant'Ignazio. Quindi, dare allo Spirito il protagonismo dell'Evangelizzazione, lasciarsi portare dallo Spirito. E questa è la chiave di una Chiesa in uscita. Ma che cosa si intende per missione? Cosa si intende per evangelizzazione? A questo punto scaturisce la linfa evangelica di questo documento. Si tratta della trasmissione di un'esperienza di Gesù Cristo risorto presente nelle nostre vite. Quindi viene superato un paradigma meramente informativo. Non basta con imparare a memoria un testo semplicemente memoristico o teorico-dottrinale per andare a un modello d'incontro basato nel rapporto interpersonale, nel dialogo, atto a condividere l'esperienza dell'amore di Dio che viene reso presente nell'impegno comunitario nel servizio del prossimo. Quest'idea di evangelizzazione trova le sue radici nel nuovo concetto di rivelazione offerto dal Dei Verbum nel Concilio Vaticano II che appunto ha lasciato il modello informativo e ha intrapreso un modello relazionale. Quindi è all'interno del rapporto con Dio che Egli rivela se stesso all'uomo e l'uomo risponde con la consegna di sé. Quindi un concetto relazionale della fede ripreso anche in l'Humen Fidei. Come si fa la missione? E subito il Papa avverte fare missione non è fare proselitismo. Si fa attraverso la categoria di dialogo, quindi sempre nello scolco della relazionalità. E' una categoria centrale del documento. Non dobbiamo dimenticare che è stata anche una categoria centrale nel Concilio, in modo particolare di Paolo VI, come abbiamo sentito oggi, e l'Ecclesia Anzuam e della Gaudium Spes, e il decreto sull'ecumenismo e così via. Questo dialogo comporta un atteggiamento di base che è l'apertura verso Dio, verso il suo spirito, per lasciarsi condurre come chiesa pellegrina, e verso l'uomo essere in grado di dialogare con le diverse culture e le diverse persone. Molto bello la testimonianza del rabbino Scorca in questa sede, quando ha raccontato la sua esperienza di dialogo con il Cardinale Bergoglio. Quindi non è che si erano messi a discutere su questioni teologiche che non sarebbero finiti mai, ma è un dialogo sulla vita, un dialogo che tiene conto dell'altro, che cerca di gettare un ponto, di essere amici. E' il dialogo che appunto mette in risalto la persona e non le idee. E secondo me questo è il cammino che lui propone nell'Evangelio di Gaudium. Quindi un dialogo basato nel riconoscimento dell'altro come persona, nel rispetto della sua dignità e della sua coscienza e libertà e nella fiducia dell'azione dello spirito in ogni uomo di buona volontà. Quindi il dialogo, più che una categoria psicologica, è una categoria teologica, l'idea o il dogma dell'incarnazione, una categoria anche morale. Occorre dialogare. Abbiamo il compito di dialogare. E il dialogo presuppone il rapporto interpersonale e l'ascolto con l'altro. Perciò la domanda seguente è come si fa la missione? Precisamente attraverso il dialogo. Non dobbiamo dimenticare che è stata anche una categoria, scusate, come si fa la missione? Il soggetto della missione. Chi fa la missione? Mi sono fagliato. Il popolo di Dio. Quindi è una chiamata universale alla missione, come in Apparecida. È il popolo di Dio che evangelizza, non soltanto la gerarchia, non soltanto il laico impegnato, tutti sono chiamati alla missione. Si può dire che viene privilegiata l'identità cristiana scaturita dal battesimo più che il grado gerarchico, talvolta fonte di privilegi. Possiamo qui richiamare Sant'Agostino. Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quindi l'identità cristiana è la cosa più importante. Da questo punto di vista della missione viene ridimensionato sia il laicato che la gerarchia. Ambedue si incontrano nella missione e nella missione attingono la propria identità. È il pastore con odore a pecora ed è il laico in solidarietà con l'uomo contemporaneo, non il laico con odore a sacristia. Quindi, non si tratta di assorbire l'identità laicale in quella clericale, né diluire l'identità del clerico in quella laicale. Ambedue sono in reciproca relazione e complementarietà nell'assumere il compito comune della missione. Perciò possiamo dire che qui abbiamo anche un'ecclesiologia originale, almeno, non totalmente nuova, però sì che è la continuazione della novità ecclesiologica del Vaticano II, della Lumen Gentium, della Gaudium et Spes, ma vissuta e interpretata in Latinoamerica e soprattutto ad Apparecida. È il popolo di Dio in cammino e la Chiesa in missione. Nel soggetto popolo di Dio si trova l'identità della Chiesa e la sua spiritualità, come ha già detto il professore Galli, il piacere di essere popolo, spiritualità del vivere insieme. È una Chiesa in cammino, anzitutto, trova Dio nella città degli uomini, dove Dio vuole rendere umani i rapporti interpersonali. Siccome è una categoria integratrice, accoglie tutti, soprattutto quelle delle periferie. Si parla di trasformazione della Chiesa, incominciando dal papato stesso che viene chiamato in causa riguardo alla sua conversione pastorale. Accoglie volentieri la sinodalità, la collegialità, puntando sull'approfondimento del ruolo delle conferenze episcopali, favorendo il dialogo con il successore di Pietro, ma anche la sussiderarietà lasciando alla Chiesa particolare ciò che comporta la sua responsabilità riguardo i problemi collegati con la sua missione pastorale. Si intravede un alleggerimento della struttura burocratica della Chiesa per consentire di essere in grado di uscire, di andare incontro all'uomo semplice di strada. Di fatto, il documento è un esercizio in atto di dialogo e di assunzione dell'apporto delle conferenze episcopali che abbiamo visto vengono spesso citate qua e là. I pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI focalizzati soprattutto nel discernimento dottrinale, adesso il discernimento si colloca a livello pastorale, non per contraddire il precedente, ma per completarlo. Infatti, la dottrina cristiana è una dottrina riguardo alla salvezza, quindi non può essere formulata senza il contatto con la sua fonte, la fede del santo popolo di Dio. Quindi, senza il coltivo dell'interiorità, l'evangelizzazione perde la sua forza di attrazione. Il discernimento si attua contemporaneamente sul soggetto e sulle strutture le quali vengono esaminate per essere cambiate quando non facilitano l'evangelizzazione. sempre a livello strutturale e con gli stessi criteri ermeneutici vengono messe in causa le norme della Chiesa. Quindi, la dinamicità non è soltanto spaziale, una categoria più vicina alla staticità della Chiesa, è uscire per andare alle periferie geografiche, ma soprattutto temporale, cioè il processo storico va esaminato alla luce del Vangelo e sprigionato dei residui culturali arrugginiti appunto per andare alle periferie esistenziali. Quindi, il criterio il tempo è superiore allo spazio viene collocato nel contesto dell'evangelizzazione, la quale incomincia nell'evangelizzatore stesso e si sparge alla comunità ecclesiastica e civile. A questo punto si avverte sul rischio di manipolare ideologicamente il Vangelo. Allora, dice il Papa, non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Al numero 39. Quindi, occorre un discernimento delle diverse ideologie presenti nelle mentalità correnti che possono essere pure assunte in modo acritico da parte dei cristiani e che si manifestano in rigidità sia dottrinale che morale, attaccamento esagerato a forme e idee che sono state ormai superate ma che si ritengono inalterabili, confondendo ciò che è la verità con le sue formulazioni o manifestazioni storico-culturali. La spiritualità appunto è il cuore possiamo dire del documento. Una delle tentazioni dell'operatore pastorale è quella di credersi senza peccato o meglio di qualcuno. Invece l'autentica esperienza cristiana è quella di sentirsi perdonato e accolto dall'amore misericordioso di un Dio che è padre. Senza questa esperienza i tentativi di evangelizzazione sono vuoti. Il pecatore viene sempre accolto. Bisognerebbe chiarire in che modo si realizzi questo desiderio. Si offre una spiritualità dell'impegno comunitario e missionario. La crescita della vita spirituale va pari passo con l'approfondimento dell'impegno missionario fino ad arrivare a costituire l'identità del cristiano. Secondo me al numero 273 troviamo il testamento spirituale di Papa Bergoglio. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Quindi una tale spiritualità è il filo rosso di tutto il documento. Essa emerge alla fine ma dà senso ed è la chiave di volta di tutto il documento. In questo punto c'è una novità. la mistica cristiana viene riproposta dall'identità comunitaria di essere con gli altri e per gli altri 273 di essere un popolo l'esperienza di appartenere a un popolo 270 quindi il principio comunitario diventa criterio di autenticità della spiritualità la quale è tentata di individualismo e di spiritualismo disincarnato per contro si tratta di una spiritualità dell'incarnazione che sostiene e spinge ad un impegno con il mondo e nel mondo e perciò è il fondamento della moralità cristiana della quale sapete io mi occupo e trovo molto interessante questo documento perché secondo me c'è uno stretto rapporto tra evangelizzazione e morale e che il Papa è preoccupato di questo rapporto perché trova che una certa morale non aiuta l'evangelizzazione allontana la gente quindi abbiamo un problema da risolvere la prospettiva è in stretta continuità con quella del concilio Vaticano II laddove si riconosce che c'è un ordine di importanza tra le verità della dottrina cattolica in unitatis redintegratio al numero 11 compreso l'insegnamento morale in modo tale da fondarlo sulla chiamata dei fedeli in Cristo come aveva fatto il concilio all'autatantosio 16 non possiamo soffocare questa chiamata con una quantità di norme che alla fine diciamo fanno perdere l'orizzonte della vita cristiana l'Evangelio Gaudium ci ricorda una volta in più riprendendo la tradizione della Chiesa che al centro c'è l'annunzio di Gesù Cristo la gioia dell'incontro con lui la conversione basata sulla fiducia nel suo amore come conseguenza tale incontro conduce a uno stile di vita sempre più simile a quello di Gesù il che comporta anzitutto criteri di giudizi e in seguito norme di attuazione il Papa ci ricorda che tali norme si comprendono alla luce dell'esperienza di fede dell'amore misericordioso il quale incoraggia ad uscire da se stessi a livello personale ad uscire come comunità incontro al mondo alla società e all'altro perché abbiamo un tesoro da condividere un senso per la vita una luce che illumina il cammino al numero 39 leggiamo ogni verità si comprende meglio se la si mette in relazione con l'armoniosa totalità del messaggio evangelico mi sono dimenticato appunto perché essendo una verità salvifica ha una connotazione storica secondo il modello dell'incarnazione e fa riferimento alla storia della salvezza all'interno della quale la comprensione umana si sviluppa e progredisce una pastorale in chiave missionaria al numero 35 leggiamo non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere l'annuncio si concentra sull'essenziale la proposta morale quindi non può ridursi a un sistema normativo si tratta invece di una proposta di vivere a un livello superiore numero 10 basata sull'esperienza dell'amore di Dio in Gesù Cristo e contemporaneamente su una tensione rivolta all'altro che porta al suo riconoscimento e avvia il vero dinamismo della realizzazione personale noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l'altro stringere relazioni e aiutarci a portare i pesi gli uni dagli altri come si legge in Galatissi 2 infatti il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e ci salva riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti Gesù ci ha indicato questo cammino di riconoscimento dell'altro con le sue parole e i suoi gesti nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri una immediata ripercussione morale il cui centro è la carità perciò dal cuore del Vangelo stesso riconosciamo l'intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana indissolubile legame tra accoglienza dell'annuncio salvifico e un effettivo amore fraterno quindi tra evangelizzazione e morale ecco se la proposta morale cristiana è una proposta anzitutto relazionale si rende necessaria un'evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio con gli altri con l'ambiente e susciti i valori fondamentali leggiamo al numero 74 il Papa si accorge che è in atto una svolta epocale che presuppone un cambiamento culturale nel quale Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana occorre ricondurre all'essenziale la proposta morale per guadagnare chiarezza e profondità per rendere più chiaro l'annuncio si tratta di osservare quel comandamento nuovo che è il primo e il più grande quello che meglio ci identifica come discepoli quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ridurre a una sintesi al più essenziale il messaggio morale cristiano ci presentano l'ineludibile esigenza dell'amore del prossimo ciò non significa tutt'altro sminuire l'esigenza cristiana quando piuttosto rende la più autentica ed efficace per giungere ad un punto di maturità dice il Papa cioè perché le persone siano capaci di decisioni veramente libere e responsabili un eccesso di normatività da una parte potrebbe far dimenticare che cosa è veramente essenziale dall'altra può impedire di crescere nel proprio discernimento personale mostrando così una mancanza di fiducia nello spirito proprio su di essa l'esortazione apostolica fa leva indicando che è lui a condurre l'evangelizzazione invitando le comunità ad approfondire il proprio discernimento il Papa fa perciò un atto di riconoscimento dell'azione dello spirito nella chiesa in ogni comunità e in ogni cristiano e la prospettiva conciliare della morale personale come discernimento nello spirito dell'agire di Dio nella storia che il cristiano è chiamato ad assecondare e la chiamata a un cristianessimo adulto in grado di prendere decisioni consapevoli e responsabili grazie 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 grazie